Come ci lasciamo? Noi abbiamo sempre il nostro appuntamento. Cara, ci vediamo alla TAC perché dobbiamo brindare, la buttiamo così sul fatalismo, se vuoi. Io ci sono. Ti faccio sapere come va. Andrea, ti abbraccio forte. Ciao Silvia. E abbraccio anche te Paolo. Grazie. Silvia, grazie di cuore. Ti voglio bene. Grande, grande, grande abbraccio. Grazie Silvia, grazie family, tutto voi, tutto il tuo pubblico, la tua rete. Grazie che ci siete così vicini. Grazie. Scusa, non voglio piangere, però ti vogliamo veramente tanto, tanto bene. Amore, io non trovo le parole per ringraziarvi. Sono smostra qui dentro. Sono affezionata tantissimo anche ai tuoi figli che sono fantastici, uno più bravo dell'altro. Conosco meno Andrea, conosco di più Paolo e veramente vi do l'abbraccio più grande del mondo. Tesoro, noi non ti lasciamo, siamo qui, vedrai, te lo duro anche per te, per tutti. Scusami se mi sono... Cara, sei bellissima così, fatti riprendere perché sei bellissima. Grazie. Credimi, mi dai una mano enorme. Grazie. Grazie a tutti